Allora, vi ricordate cos'era negli anni 90, quando non bisognava ancora far su le cacchie di cani? Ai proprietari la cosa non dava il minimo disturbo, perché conoscevano la mappa delle loro cacchie, quindi non le pestavano. Adesso è diverso, bisogna provvedere, però c'è il problema delle pipì. Vedete quando uno apre il lucchetto della moto e se lo trova tutto bello intriso di pipì di cane? E lì non basta neanche lo svittolo, la pipì è bastarda, ma sono più bastardi i proprietari dei cani. Dai, lo vedi che il tuo cane sta facendo la pipì sulla ruota di una BMW R80GS, dai, un po' di rispetto. Infatti adesso a Milano vedi tutte le catene delle moto tirate su, disperatamente attaccate alla targa, al portapacchi. No, gli scuteroni no, perché lì è il cane che non gli fa neanche la pipì sopra, quindi non ha un problema. Comunque, bisognerebbe pulire anche la pipì con una bottiglietta d'acqua e ammuchina, tipo che quando esci il cane deve avere uno zainetto tipo Bear Grylls, acqua, paletta, sacchetti, crocchette, guantini. Poi gli avanti dei cani sono sempre ecosostenibili, però immaginate quante cacche fanno tutti i cani ogni giorno e quanti sacchetti vengono usati. Cioè è come se i cani facessero cacche di plastica, a volte il sacchetto è più grosso della cacca. Per non parlare di quando il vostro unzeldunzeldrunken di Pomerania ha sgarrato dalla dieta di crocchette specifiche a 28 euro la confezione e vi fa lì una sciolta enorme sul marciapiede. Come fai? Devi uscire il cane col Dyson. E no, perché i cani di oggi sono più delicati. Avrete provato a dare un pezzo di focaccia al cane di un amico, no? No, non può, per la carità! Sì, ma è focaccia, non gli stavo mica dando del polonio. No, non me la digerisce! Cioè, io quando ero piccolo c'erano due bastardini nel mio cortile che mangiavano di tutto, spazzatura, topi, gatti, smaltivano tutto quello che trovavano. Erano come la ricicleria di via le forze armate. In tre mesi ha ripulito tutto il quartiere, compreso una Ford Fiesta abbandonata dietro la casa. Uno è ancora vivo, è durato più della Ford Fiesta. Adesso no, guai, altrimenti ti mollano lì la sciolta. Insomma, quello delle cacche è un mondo e si imparano un mucchio di cose. Ma non c'è solo l'intestino. Oggi i cani hanno dei begli sbatti anche a livello psicologico. E per forza, li fanno castrare, li mettono il cappottino, l'impermeabilino, il collarino di Prada, li fanno tosare con dei tagli che sembrano cristiano o malgioglio. Poi ci credo che hanno difficoltà di integrazione sociale, disturbi psichici, comportamenti inadeguati alle circostanze, insofferenza agli ordini e non trattengono i bisogni in casa. Che poi, tranne quello dei bisogni in casa, tutti gli altri disturbi li ho anch'io. Cosa faccio? Prendo un cane o vado direttamente da Cesar Millan?